Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un albo illustrato utile soprattutto ai bambini per comprendere l'importanza dei ricordi e al valore delle piccole cose nella vita. I lettori impareranno a nutrire un amore per il passato e a vivere pienamente il presente, creando un equilibrio tra la nostalgia e la gioia di ciò che li circonda. La trama del libro Michelino Storia di amicizia e di limoni dello scrittore Alessandro Grazioli ed illustrato da Anna Formaggio, edito da Fioranna, è la seguente. C'era una volta un piccolo limone curioso, Michelino, e il suo saggio nonno, una donna con il nome di un fiore, un comandante scrittore, un medico sognatore e un pescatore innamorato. Una storia che insegna il valore dei ricordi perché è nelle piccole cose che è racchiusa l'essenza di quelle grandi. Sarà proprio Michelino che, con amore, porterà avanti questo importante compito, quello di mantenere vivo il legame tra il presente e il passato. Età di lettura a partire da cinque anni. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale. Grazie mille. Grazie a tutti.